Sembra non esserci pace per il piccolo comune alto canavesano che dopo il vasto incendio degli scorsi giorni, nel pomeriggio di domenica 3 aprile, ha visto nuovamente l'intervento dei vigili del fuoco di Livarolo Canavese, dell'AIB e della protezione civile del paese, a causa di un incendio divampato all'interno della casetta dell'isola ecologica, costruita da poco. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incendio, potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Grazie. 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 Grazie.